58 milioni di euro per il nuovo ponte San Giuliano che sarà costruito al posto del vecchio fatto brillare il 16 di dicembre dopo sei anni di chiusura. Sarà una struttura innovativa, più agile, le campate più distanziate, ci sarà un maggiore rispetto dell'ambiente, quello che si definisce un basso impatto ambientale. Il progetto è già pronto. Resta soltanto la decisione dell'affidamento, ANAS dovrà decidere se affidare a CMC oppure alla cooperativa di aziende che hanno effettuato tutti gli altri lavori. La prossima settimana è stato stabilito un tavolo tecnico al Ministero con tutte le parti.